Come sta, Euripide? Sbronzo, spero. Puoi smetterla di nasconderti. Euripide non ti noterà. Non noterà più un bel niente. Nascondermi? La guerra è arrivata ad Atene. Si prenderanno prima le nostre case, poi le nostre teste. Voglio conservare la mia dignità, ciò che ne resta almeno. Se vedi Pericle, digli che lo ringrazio per un'altra magnifica serata.